Wahey Kooch, ben ritrovati da vostro andro in K91 in questo nuovo episodio di My Hero Once Justice Non ho la minima idea Vabbè tanto, sono tutti quanti uguali gli attacchi, però le combo È quando fai le combo che arriva il problema Non è vero, non è vero Non mi sembra così presto, ma io sono il mio figlio di te, il mio figlio di te! Non mi ricorda di perdere il mio nome! Ingenium! Il mio figlio di te è il mio figlio di te! Non mi ricordo come sarà implementata il fatto che Stain ha un potere, il suo quirk gli permette di leccare il sangue del nemico, meglio per lui il nemico, E bloccarlo per alcuni secondi Cioè, nel gioco secondi, nella vita vera, diciamo, nel manga, dura qualche minuto Oh, come mi ha fregato lì? Ma... Ma che problemi ha Stain? Si era fermato un attimo lì... All'attaccare... È bello, però... Cavolo... Questo è lo shoot style! Aspetta, aspetta... C'era che si può... Ah, ha detto un attacco molto vicino... Però la mia velocità è aumentata, seppur di poco... Bene! Non mi ha fatto nulla! E... Praticamente si era un attimo puntato ad attaccare lì il palazzo, non so perché... Non so perché si era puntato... Quindi questa è la prima vera battaglia! Ah... Ottimo, allora... Oh magari su yellow... Oh... Un po particolare... Ah... Ingenium... Ah, tu sei un po' di me. Il tuo è per il suo lavoro. Tu sei... ...il tuo... 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 ...sugura, tu! Tu... ...il tuo... ...il vio... ...ell... ...io... ...il tuo... ...il tuo... ...il tuo... ...il tuo... ...il tuo... ...infrusti... ...eppure... Grazie per la visione! Oh yes, oh yes ragazzi! Bene, ora che abbiamo Midoriya col full cowl al 5% dovremmo essere in teoria più veloci quando corriamo, quando ci muoviamo nell'area di gioco normalmente. Prima l'ho attivato durante le prove ma non è facile. Facciamo obiettivo, sconfingere Nomu? No, con Gran Torino! Wow! Eh, mi sa che è un personaggio interessante allora. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Sarà così difficile battere un... Accidenti però! Vediamo un po' come se la cava. Beh, non è che gli ho fatto granché, eh? Magari se gli facevo qualche danno in più era meglio. Cavolo. Sono troppo abituato con Midoriya che non mi ci ritrovo con gli attacchi suoi. Perché Midoriya con Ypsidon fa l'attacco a distanza, invece lui deve stare vicino. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Ma perché? Aiuto! Aiuto! Non capisco se la CPU è stupida proprio. Oh, è andato. Oh, è ancora andato. Ok, ora sì, è andato. Cavoli però! Cavoli, non è facile, eh? Con lui proprio per niente mi ci ritrovo. Ho detto, abituato con Midoriya che attacca da lontano. è fastidiosissimo combattere con uno corpo a corpo. Eh, si preoccupa della strada, lui. Eh, si preoccupa della strada, lui. Bene 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 Quindi ora continuiamo un attimo La storia di Stain E sto andando a figurare Un modo per dividere I vari episodi Diciamo che Anche se qui li chiama capitoli I veri capitoli poi devi essere tu Comunque sia A dividerli Chiamiamo le storie Ok Praticamente queste prime tre storie Sono Il primo capitolo diciamo E queste altre Nove Credo no Tre quattro addirittura dovrebbero essere Quattro o otto fino al numero otto Dovrebbero essere il secondo capitolo Più o meno Li dividerò più o meno in questa maniera Ogni Fine di una storia Diciamo di un arco Tipo L'arco di Stain Che sarebbero questi quattro o cinque Queste quattro o cinque storie Le divido in un capitolo Quindi ora andiamo a fare anche Questa Miloria contro Stain Lo stermina eroi Non c'è ancora un problema Stain Ah si abbiamo andato il segnale Dovrebbe esserci anche Shoto Dovrebbe esserci anche Shoto Lo chiamo per nome Per distinguerlo dal padre Eh Più avanti questa cosa Non ti servirà affatto Dovrai stare molto attento A questa cosa un giorno Miloria E chi legge il manga sa Ok Cominciamo Woohoo Ma non siamo in full cowl Perché? Ah vabbè Insomma Vuoi il gioco duro? Ok Aspetta che mo' ti aggiusto io Ecco contento? Non riuscivo a partire Col dash Allora ho dovuto usare un attacco A lungo raggio Dai 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 Perfetto Perfetto Eccolo Detroito Smash Eccolo Fine per Plus Ultra Uh Come sono neanche fatto tanto male alla fine Ho ancora tutte e due i guanti Sì praticamente Il guanto gli si rompe quando fa lo smash Con la schicchera caricata New story Eccolo 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 E ora Oh forse ora combattiamo con Shoto Perfetto Andiamo con la settima Perfetto E andiamo allora Eccolo Ah posso usare il supporto spalla Perfetto Ah fino a che non è carico Ah fino a che non è carico Ok qua ci insegnano ancora un po' di tutorial Oh mio Dio Oh mio Dio che bello Anche lui attacchi a distanza Ok E anche pugni E anche pugni Oh mio Dio che non è carico Oh mio Dio che non è carico Oh mio Dio che è carico Mi sembra Il terzo Il terzo no Quirk Il terzo plus ultra Che poi posso dirvi una cosa Quirk Querk Ma chi se ne frega L'importante è che Si usi Quella è la cosa importante Per il momento Ancora non mi sembra Siano state usate Musiche Dell'anime Quindi penso che sia Copyright free Il gioco Dalle musiche Il che è un incentivo in più A caricarlo su Youtube Se poi ci sono problemi Saprei già come fare Plus ultra X E spendendo tre livelli Dell'indicatore plus ultra Ok ora c'è questa Con chi giochiamo Con Todoroki Vai Ma mi sta piacendo pure Todoroki Anche se Midoriya Per il momento Il mio preferito Dell'anime Perché è ovviamente Quello che viene caratterizzato Meglio Però un po' di background Più approfondito Di alcuni personaggi Non mi dispiacerebbe Qu'è? Qu'è? Sì Qu'è? 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 Non è un po' di chiama, non è un po' di chiama. Non si non riesce a qualcuno. Ma non riesce a me. Se non riesce a me, la Ingenium va a perdere! Non riesce! Eccolo Ah no sempre col ghiaccio Ah ecco ghiaccio e fuoco 50 colpi Ma l'ho distrutto Ai 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 Beh è bruciato Perfetto Ai 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 Ma non è crepato ancora? E dai E quanto gli ci vuole? Eh non andava mai capo quanto gli ci vuole? Per il momento il beat em up con cui ci divertiremo è questo Quando a novembre No a dicembre uscirà Ultimate Smash Allora lì sarà tutta un'altra cosa Nuova storia Ok andiamo avanti allora Quindi in teoria ora l'abbiamo battuto Sì eccolo Allora lì Allora lì Allora lì Allora lì Allora lì Allora lì E comunque sia Stain ragazzi è tostissimo come Come il nemico Bene cugia anche questo video di My Hero Once Justice termina qui E spero che vi stia piacendo il modo in cui sto portando questa serie Ovvero a capitoli Ogni capitolo ha diverse storie raggruppate Che vanno poi a formare l'episodio Poi come sempre vi ricordo che in descrizione ci sono i link per Twitter e Instagram E se ancora non siete iscritti al canale Iscrivetevi E noi ci vediamo come sempre domani con un nuovo video Bye bye